È meraviglioso che tuo padre si sia innamorato di mia madre, non trovi tesoro? Ah, io sono contrario a questa storia, maledettamente contrario! Eh, maledettamente, maledettamente contrario! Bart! Papi, perché ti opponi al fatto che nonno si è innamorato? Cos'è? Sei geloso? Se lui sposa tua madre, Margie, diventeremo fratello e sorella! E quindi i nostri figli diventerebbero orribili mostri con la pelle rosa, niente sovrocclusioni e cinque dita per ciascuna mano!